Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Buongiorno! Come va? Tutto a posto, grazie. Allora, abbiamo combinato, ne abbiamo combinato una pronta grossa, 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 ma è grossa, ma è grossa, eh? Quanto è grossa! No dai, ma è anche tanto grossa! Eh, è un po' così! Poco, dai! Pochino! Allora, nel parlare, oggi abbiamo fatto un prank alla Ceci, che forse avete già visto. Cosa è successo? Quello dell'anello aspirato con la spia a polvere. Cosa è successo? In un momento di relax, eravamo tutti sul lettone, io, la Ceci, Luca e Elisa, a chiacchierare, e allora lei era stesa e l'ho toccata un po' la pancia e le ho detto, caspita, cresce! Cresce! E io sono stato al gioco! E io sono stato al gioco, no? E i ragazzi, come? Cosa cresce? Eh, sono tre mesi! Non vedete che la Ceci è un po' ingrassata? E dopo due fondine di minestra, aveva un po' il panciotto! Allora, lo rompere! Il panciotto! Pesce palla! E loro già creduto, no? E allora abbiamo continuato a recitarlo! Caspita, qui! Sì, sono tre mesi! Aspettavamo a dirlo! Non sapevamo più come uscirne da sta cosa! E Luca, come reazione è un po' così! La Lisa è insomma un po' più contenta! Cosa è successo? Doveva venire la mamma di Luca e di Lisa a prenderli! E allora ho pensato bene, d'ascondo la telecamera, la posizione dove c'è l'entrata e poi, mentre ci salutiamo, io lo diciamo! Esatto! Ragazzi, non ci crederete mai! È uscito un video! Pazzesco! Pazzesco! Adesso lo vedrete! Non posso dirvi niente, non posso spoilerare! Guardatemi il video e via, ok? E allora, buona visione! Esatto! Buon prank! Ciao! Ciao anche da piccolino! Ciao, ciao, ciao! Andiamo a aprire! È arrivata la mami! Vieni, Ruki! Sì! Hai petto? No! Ciao! Ciao! Buongiorno! Oh, ma che freddo! Che petto ha maleditotto! Beh, qua dentro sta bene! È fuori che è! Sì! 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 Ma ho chiesto o non ho ancora avuto risposta? Chi l'ha dovuto fare? Non c'è! È fermo! Allora, andiamo subito! E metto a pro... Sì, dai, andiamo subito! Sì, dai! Lo festeggiamo! Sì, sì! Sì, sì! Allora! Dai! Dai, Ruki! Cristo schino! Ruki! Guarda che si festeggia! Chi lo dice? Me no! Ma no! 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 Ci sono fatte! Dio, che ci si pensa! No! No! Escrivetevi una mail! Non lo so! Un messaggio! Non lo so! Io l'ho dico! Che sei più coraggioso! Perché è io? Dio, tu sei più coraggioso! Dime lo so! Io l'ho dico io! E quindi sei forte! Io lo dico che lo faccio! Non lo devi dire al padre! No, no! No, ce l'ho! C'è un altro modo per... Per direlo! esatto, è ingrassata è ingrassata esatto eeeh no 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 ho capito giusto si eeeh adesso c'è eeeh ah non lo so io io sono amico che che è stato? che che è stato? la cicogna la cicogna è la tra poco eeeh oh che cosa dici? ma ti ha indicato lida lida Luca no non sei contento sono scettico ok giovedì c'è la ecografia mercoledì c'è la mercoledì c'è la mercoledì no giovedì no ma c'è più un giorno no mercoledì che dici? ingrassata buona non sei contento ma è scettico è rimasto lei era vorrei fare ma per nasce lì devo scherciare le gocce e le bocciotte non sei 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 mi piace che ci sei tu ciao quando non ci sei piangere mi piace non sei non c'è nessuno di me quindi Quindi è... E guarda che gliel'avete detto a loro? Prima, oggi si Sembrava giusto dirlo a loro e poi anche a te Grazie, me la vedete Prima poi si vedeva qualcosa Quindi io ho senso, mi posso stare sento con il porco te Le vanno a me visto? Non mi hai spingersato? Quale una pancetta? Dove? Di profilo Sono un po' sudata, l'ho toccata eh? Ti sei sudata? Si ma ciao Cosa c'è su pile? Esatto Cosa che fa? Vigoletta Ma la cosa che da ne fare? Che è su? Ma vediamo tutte le foto Sono tutti i video vecchi quelli Ah? Mi chiedo No, ci sono cose... Si contenta? Oh quanto bello Per il giorno Vedi sono già passati 3 mesi Esatto Allora Mi pensa un attimo Guardate Come è lui? Vole i 15 C'è Marco Ma non c'è tutto il periodo Basta C'è L'ho capita eh Eh Ma di me Cioè lui Vole il periodo poi basta Vole i 15 Ma i 15 Ehm Vole i 15 Vole i 15 Andiamo festeggiare? Andiamo Andiamo Ego un fatto gelato Ego un fatto gelato, pappé, tutto un'altra metto guarda compagni il 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 per me io io voglio maschio no non non ma sono bravi per me per me per me però i maschi forse 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 sono il sistema ancora puoi mettere le scarpe giuste la racchetta così vuoi mettere le scarpe? no ecco vuoi usci così? ahahahah andiamo a festeggiare andiamo a festeggiare il prank yeeeeh che cosa faccio? yeeeeh prendi raga ce l'abbiamo fatta yeeeeh yeeeeh che faccio il prank? siete contenti? sono cinta non sono cinta cinta sono cinta ragazzi 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 che me prega mi ha fatto prega è riuscito abbracciami ancora e che ora dai grazie stai con te ora stai con un colpo spesorato lui Luca ha detto sì Luca era Diana non ci credo non ci credo non ci credo ma si aspettavo questo momento non ho detto ma non ho detto ma 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 si esatto per chiusura del video ragazzi ma 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 allora adesso vi uscito si molto bene mi raccomando sui profili instagram prenditi eh luca's in web mi ce la piace l'official zanate da scorlisa e la sua regista che per oggi non è stata la sua regista marco.zanotti e noi ragazzi ci vediamo che io anche la chiara è presente chiara con la k appunto col pane esatto bene ragazzi ci vediamo in un altro video eee ciao un saluto che l'ha vinto piccolino per il momento per il momento per il primo è